ci sono i carri armati che praticamente saltano e poi esplodono per aria si ribaltano e si sparano da sotto e fanno anche queste cose tipo e poi c'è questo paesaggio bello il capodanno a sciare che lo vogliono fare sempre tutti è bello no e poi e vabbè la guarda in trincea che si ribaltano ancora e quando ti ribaltano hai perso e questo è world of tanks tralasciamo il mio stupore nel vedere che ci sono i fuochi d'artificio sullo sfondo e parliamo del fatto che c'è il piatto 3000 e l'ho chiamato palestro perché viva l'italia non era abbastanza era troppo viva l'italia ma palestro che io poi non lo so penso che sia un paese palestro allora palestro paese della lombardia nella provincia di pavia eccolo qua ma è uno dei nomi più minacciosi che io abbia mai sentito palestro è pronto agli ordini ma ora seriamente vi ho già detto che world of tanks è un gioco free to play e quindi potete scaricarlo quando vi pare come vi pare dove vi pare e giocarci con chi vi pare seguiamolo lui cimera via andiamo oggi ci togli i dti 116 andriana ma è più vicina sta appena o no il me è proteggiamo il messia con i nostri cavoli ora è il coperto io sarò il tuo scudo del sano punk rock in diretta della tua officina a partire dal 18 settembre io spring mi piacerebbe farvi sentire la musica ma non credo che l'algoritmo di youtube sia d'accordo grazie youtube e i pari questa è la casa dove io sono cresciuto con cosa è questo poligono carri tesoriere da almeno due l'ho beccati che cazzo a bene io prendo tutto padella si raccogliamo schifo oh no oh no no nein nein non raccogliere veleno per topen bene bene raccogli no ultima vita no cazzo fai no ok ok allora io a te staremo al centro a fare i cecchini io te al centro ma tu non puoi fare il cecchino magari sono un cacciacarri posso fare qua guarda quanto c'ero lungo guarda aspetta guarda sì e guarda quanto è grosso e guarda il mio invece quanto è grosso è corto ma è guarda come si alza guarda come si alza guarda quanto va in alto il mio è o merda ci prendono sulla destra ma malissimo ok sto gli sto girando dalle spalle aiuto tra stampa da mi disturba sì ok google metti musichetto il furgoncino dei gelati a musichette del furgoncino dei gelati su youtube vai pari ne vola pronto arrivato il gelato andiamo dentro sto palazzo ok sicuramente sarà un museo vediamo cosa c'hanno di quello da vedere però non ci hanno pensato che ci volevano le rampe aspetta ti spengo io aspetta 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 ti spengo io aspetta guarda aspetta aspetta vai quasi quasi mi facono tre scaridi Eccolo, eccolo Vai, vai, vai Vai, vai, vai A sinistra, a sinistra, mobili Nooo Nooo Per pochissimo Secondo me Andiamo in giro Dobbiamo uccidere la gente Ma pure questa che piccolissima Bamboccio L'hai fatto arrabbiare Mi sei incazzato malissimo Adesso ce l'ha con me Ma che cazzo vuoi? Chiudiamolo Dove vai? Ma non è smart questo Nooo Mi è scivolato via No, se sta andando Vai, vai No, non si passa Sei troppo piccolo per andare in guerra La mamma lo sa che sei qui Non riesce a muoversi Ha ribaltato Ah, ne arriva un altro Aspetta Ciao E se ne va Ci stanno fottendo la base Aspetta Rivaldiamo con l'imbecille Si muove più Paride quel carro non si muove più Comunque Secondo me Porca troia Ci stavano Guarda che ci inculavano malissimo Adesso non più vedrai Eccolo lì l'imbecille leggendario A posto stes Oh, oh, oh Oh Oh